Si gioca in infrasettimanale la ventesima giornata nel campionato di eccellenza siciliana. Amici di Wii Sport, bentrovati al Bruccoleri di Favara. La sfida è quella tra Pro Favara e Nisse. Entrambe le formazioni viaggiano nelle zone alte di classifica. In quella play-off c'è già il Pro Favara dopo la vittoria per 3-0 contro il Cus Palermo. I punti sono 34, 4 in più della Nisse dopo lo 0-0 sul campo dell'Unitas Sciacca. Si affida al 4-3-3 Mister Bognanni con Chebbe in porta, Garofalo, Conti, Diop e Santa Maria sulla linea difensiva in mediana. Trovano spazio Caroni, Apriolo e Braci in avanti Rizzi, Reducci e Ilario. Sono i disegni a partire bene al Bruccoleri. Dopo 5 minuti c'è un calcio di punizione infatti affidato a Apriolo il suo destro in area di rigore. C'è la sponda di Diop per Ilario che colpisce da 0 metri il palo. Era anche difficile in quella posizione, probabilmente la tocca solo all'ultimo. Il centrocampista è la Nissa, si resta sullo 0-0 al dodicesimo. Il tentativo di Giuffrida per Aureliano trema la traversa di Chebbe in questo caso. Il Profavara a sfiorare il gol del vantaggio al quindicesimo. Priolo perde un palone sanguinoso al centrocampo. Se ne approvia allora King che vede con la coda dell'occhio il compagno Passegue in area di rigore. Passegue si deve allargare necessariamente a sinistra. Viene atterrato, attenzione a questo intervento. Attenzione a tutto quello che succede, si continua. Per il direttore di gara due episodi più che dubbi. Al diciottesimo c'è un calcio d'angolo per la Nissa. Diop svetta più in alto di tutti ma non inquadra lo specchio della porta. Al ventunesimo si fanno preferire nuovamente gli ospiti. Qui riconquistano il pallone. Reducci sguscia in mezzo a due avversari. Poi allarga a destra per Ilario. Il pallone viene rimesso in area di rigore. Reducci la tocca. Ancora Reducci! Eccolo qui il gol del vantaggio della Nissa. Arriva puntuale in area di rigore. Reducido aver scartato due avversari. Aver avviato l'azione. Tutto bello per la formazione di Mr. Bognanni. Ma si fa male di Hop. Esce per infortunio. Entra Mazzoni quando siamo al ventottesimo. Passano cinque minuti. Bossa sventaglia per Giuffrida. A destra punta Santa Maria. Giuffrida riesce a saltarlo. Sponda in area di rigore. Mette all'indietro doppia deviazione. La palla è tra le braccia di Cheba. Brivido allora per la Nissa quando al trentottesimo Caronia riesce a trovare spazio. Cerca la conclusione. Ilario alta sopra la traversa. Si fanno preferire i Nisseni nuovamente in zona offensiva con lancio di Reducci. Stavolta per Rizzi che prova a saltare anche il portiere. Viene atterrato tutto fermo per posizione di fuori gioco. Quarantaquattresimo. Sfonda a sinistra con e passegue il Profavara. Non ci arrivano. King e Gambino ci arriva Giuffrida. Salva miracolosamente Santa Maria. Quarantaquattresimo. Il pallone arriva dalla destra. Semberre. Play del gol. Stavolta Reducci gira debolmente verso la porta di Sendin. Quarantasettesimo nell'extra time. Splendita palla di Giuffrida per Aureliano che arriva sul secondo palo. Arriva probabilmente con un filo di ritardo e manda sopra la traversa. Termina così il primo tempo delle Bruccoleri. Fin qui vantaggio della Nissa sul Profavara. Decide il gol realizzato da Reducci al ventunesimo. Partiamo col film della ripresa. Sessantesimo. Bossa sul calcio di punizione. Indovina dentro per il colpo di testa di Marino che non trova la porta. Era tutto fermo per posizione di fuori gioco. Dall'altra parte invece Rizzi prova ad inventarsi il gol del mercoledì. Pallone tra le braccia di Sendin. Sessantaseiesimo. Attacca nuovamente la Nissa col pallone che finisce a Reducci. Vicino l'area di rigore ci riesce a entrare a Reducci. Va col sinistro. Pallone debole tra le braccia di Sendin. Settantesimo. Reducci da dietro. Vede con la coda dell'occhio l'inserimento del compagno. Caro Nia lo serve. Destro di controbalzo che però non inquadra lo specchio. Settantasettesimo. Calcio di punizione di Lario. Ci prova da distanza siderale. E trova una traversa clamorosa. Sarebbe stato il 2-0. Ottima chance per la Nissa. Qui invece svilgola. Santa Maria passegue. Entra in area di rigore. Va col sinistro. È un tentativo più di cross che di tiro ma nonostante tutto finisce sul fondo al minuto 86. King per passegue dall'altra parte. A sinistra riceve. Controlla. Prova l'uno contro uno. Mette il pallone dentro. C'è una deviazione. Arriva. Fallea come un falco. E trova il gol dell'1-1. Il Profavara. La pareggia al Bruccoleri. Quando mancano due minuti al novantesimo. Quando scocca invece. C'è una punizione di Bossa che viene messa fuori. Destro. E simbile alla porta di Kebba. Minuto 94. Calcio di punizione per il Profavara. Pennellata di Bossa in area di rigore. Colpo di testa. Da parte di Marino che trova il 2-1 nell'extra time. Arriva la beffa per la Nissa che viene ribaltata dal Profavara in 6 minuti da incubo. Per la formazione di Mr. Bognanni che dunque si allontana dalla zona playoff. Ci resta invece e aumenta il distacco dalla quinta posizione. Il Profavara amici di Wii Sport. Un cordiale saluto e come sempre alla prossima.